Si apre la scena con Martina che lascia un bellissimo ragazzo, del quale però è molto innamorata, un po' indecisa, un po' Martina un'arandata. Talmente innamorata che c'è un altro. Lo so che è difficile da capire, è difficile anche per me, però è così. Per Lorenzo è più un aspetto totalizzante, diciamo, l'amore che ha per Martina. Si fa un sacco di film, io ho sempre immaginato così, di partire insieme a lei, di andare dall'altra parte del mondo e di non dover più stare ai ritmi, alle dinamiche della famiglia in cui si trova. E chi è Sean? È figlio di Mikos. Giulia è un po' l'adolescente tipo femmina della famiglia, di questa famiglia allargata. Senti un po' questo sentimento di autoaffermazione, un po' così, anche un po' passiva aggressiva, molto spesso, soprattutto per quanto riguarda il nucleo familiare. Mentre il mio personaggio è Sean, questo ragazzo canadese, vista molto antipatico il padre, principalmente perché non l'ha mai conosciuto veramente ed è anche piuttosto antipatico con lui e anche con il resto della famiglia. Comunque la famiglia gli sta antipatica, però pian piano viene comunque assorbito da quel ambiente familiare e finisce a sentirsi anche lì parte del gruppo. Perché in questa famiglia parlano soltanto di animali? Perché le bestie sono migliori degli uomini. Lasciarsi per sempre è possibile, io non lo so, non credo. Sì, no, dipende. Dipende un po' da, secondo me, la profondità della cosa, del rapporto. Resta sempre qualcosa, comunque resta sempre un ricordo, comunque resta sempre un piccolo appiglio. Scusate, mi sono perso, ma qualcuno può fare un riassunto, per favore?